Abbraccio per Francesca Dallapè e Tania Cagnotto Abbraccio di due amiche Di Francesca che era qui a commentare con noi Questa medaglia sfumata per 20 centesimi Ha detto lasciatemi andare a correre E abbracciare la mia amica È difficile commentare questa scena Perché la posso capire Veramente un brutto finale di una gara Che Tania in cui meritava il bronzo Meritava sull'ultimo tuffo Sull'intera gara rispetto alla Sanchez la messicana E i giudici non sono stati d'accordo Ma secondo me l'ultimo tuffo era da 80 punti Avrebbe strameritato rispetto alla Sanchez Così non è stato e andiamo avanti Andiamo allora direttamente da Tania Cagnotto con Riccardo Re Grazie a tutti Grazie a tutti